e che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi scusate se non riesco a farvi la intro e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi nuovo fort bite in tempo reale accessibile solo di notte nel castello ragazzi dobbiamo trovarlo dovrebbe essere eccolo qua ragazzi il numero 50 accessibile nel castello solo di notte lo raccogliamo e ce lo portiamo a casa io vi ringrazio per aver guardato questo video siamo sopra nel castello di montagnole noi ci vediamo presto ciao 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 ciao